Oggi, per prima cosa, andiamo a dimostrare una terna di teoremi molto famosa sulle funzioni derivabili. C'erano una terna di teoremi molto famosa che sono i teoremi di Rolle, il teorema di Cauchy e il teorema di Lagrange. Iniziamo con il teorema di Rolle. Allora, fate attenzione all'ipotesi. Si ha F, una funzione da un intervallo a B chiuso a valori in R. F continua su tutti i punti di A B. Usiamo questa notazione anche se non l'abbiamo ancora introdotta. Quando scrivo C0 di A B significa che la funzione è continua di tutti i punti dell'intervallo. Poi, supponiamo che esista F' di X per ogni X strettamente compreso tra A e B. Poi, una terza ipotesi è che F di A sia uguale a F di A. Ora, prima di scrivere la tesi, voglio farvi riflettere sul fatto che queste ipotesi suonano un pochino strane nel senso, nel momento in cui noi sappiamo che esiste la derivata nei punti interni di A B sappiamo sicuramente che la funzione è anche continua nei punti interni di A B perché, se vi ricordate, noi abbiamo dimostrato che se una funzione è derivabile in un punto, è anche continua. Quindi, scrivere questa ipotesi più questa ipotesi. Questa ipotesi, che la scrivo a fare? La scrivo per avere la continuità sugli estremi. La continuità sugli estremi, potrei dire anche, sia derivabile nei punti interni e continua anche sugli estremi. Cioè, nel momento in cui è derivabile nei punti interni, chiaramente è continuo nei punti interni. Quello che non so è se è continua in A e in B. Ma qualcuno potrebbe dire, ma perché non ci metti pure la derivabilità in A e in B? Se è derivabile in A e in B, sicuramente continua anche in A e in B. E perché certe volte, nelle applicazioni, ho esattamente queste ipotesi. Cioè, la funzione è derivabile nei punti interni dell'intervallo, sugli estremi non è derivabile e io voglio lo stesso, diciamo, ottenere la tesi. E infatti la tesi si può ottenere lo stesso. Poi, l'altra ipotesi importante è che la funzione dei punti A e B, cioè sugli estremi dell'intervallo, deve valere lo stesso. Allora, qual è la tesi? La tesi è che in questa situazione esiste un punto XI compreso tra A e B, tale che F' di XI, in questa situazione l'AN derivata della nostra funzione da qualche parte tra A e B sicuramente si è arrivata. La dimostrazione è abbastanza semplice. La dimostrazione è abbastanza semplice perché Allora, noi possiamo fare due casi. Primo caso, F è una funzione costante. Allora, se F è costante, la derivata di F fa 0 per ogni X tra A e B. Quindi, in qualunque punto scegliere tra A e B, chiaramente la derivata fa 0. Quindi, se la F è costante non abbiamo problema. Secondo caso, F non è costante. Allora, poniamo M grande uguale al massimo di F per X appartenente ad A e B ed M piccolo uguale al minimo di F per X appartenente ad A. Esistono questi due punti? Certamente sì per il teorema di Weierstrass. Ricordate, abbiamo trovato il teorema di Weierstrass. La funzione è continua, l'insieme è chiuso e limitato, quindi è compatto. e quindi esistono il valore massimo della funzione e il valore minimo della funzione. Sicuramente abbiamo che M grande è maggiore di M piccolo. Perché? Se M grande fosse uguale a M piccolo, la funzione sarebbe costata. Il massimo è uguale al minimo, allora la funzione è costata. la funzione assume valori solamente compresi tra i massimi di M. Quindi almeno uno di questi due valori è diverso da F di A più uguale a F di B. Se vi ricordate, vi ricordate sia F di A è uguale a F di B. Cioè F di A e F di B sono lo stesso valore. M grande e M piccolo sono due valori. Ora, uno dei due potrebbe anche essere uguale a F di A che è uguale a F di B. Ma l'altro no. Perché sono due valori distinti e quindi uno dei due almeno o anche tutti e due sono diversi da F di A che è uguale a F di B. Continuo qua perché posso fare entrare alla fine della dimostrazione in questo rettangolo. Se per esempio M piccolo è diverso da F di A che è uguale a F di B sia XI tale che F di XI appartenente ad A B tale che F di XI è uguale a M piccolo. Abbiamo che XI deve essere compreso strettamente tra A e B. perché perché se fosse stato uguale a A o a B F di XI faceva F di A o F di B ma che non era M invece F di XI fa M. e inoltre esiste F' di XI pericolo. Perché siccome siamo in punto interno nei punti interno esiste la derivata. Quindi F' di XI F' di XI è uguale a 0 per il teorema di Fermat. Fina la dimostrazione. Perché E è uguale a 0 per il teorema di Fermat. Si è un punto interno all'intervallo A B dove la funzione è a minimo e dove la funzione è derivante. Cosa diceva Fermat? Che se stiamo all'interno di E se il punto è di massimo minimo nella D e se ci sta la derivata della funzione la derivata deve farlo a 0 questo è un punto interno ad A B c'è il massimo c'è il minimo per esempio assoluto quindi anche relativo alla funzione la funzione è in quel punto derivato che la derivata deve farlo a 0 chiaro? Allora facciamo gli esempi esempio f di x uguale x quadro x appartenente a meno 1 allora vedete in questa funzione tra meno 1 e 1 in meno 1 e 1 assume lo stesso valore è derivabile in tutti i punti dell'interfallo quindi anche nei punti interni questa in realtà è ben più che 0 in realtà vedremo che sarebbe una funzione c infinita però e inoltre f di A è uguale a f di B quindi stiamo nelle cose che troviamo i punti ci deve stare un punto in questo caso è 0 e qua la derivata è 0 chiaro? esempio 2 f di x uguale seno di x per x appartenente a meno pi greco pi greco allora fra meno pi greco pi greco il seno più o meno 4 in questo caso vedete i punti di massimo sono meno 1 e 1 e stanno sugli estremi il punto di minimo invece è interno uno dei due la funzione non è costante il massimo è 1 il minimo è 0 uno dei due deve essere diverso dal valore f di meno 1 uguale f di 1 uguale 1 il minimo e quindi il punto di minimo è interno e quindi la derivata in 0 fa 0 in questo caso il minimo della funzione c'è a meno pi greco meno vale meno 1 il massimo della funzione c'è a pi greco meno e vale 1 sono entrambi diversi dal valore della funzione sugli estremi che è 0 e in entrambi i punti la derivata è la funzione sempre per il primo esempio 3 prendiamo f di x uguale valore assoluto di x x appartenente al meno 1 1 in questo caso la mia funzione assume lo stesso valore meno 1 in 1 è continua è derivabile ma non è derivabile nel punto 0 posso applicare ferma? no perché non stiamo nelle ipotesi di ferma deve esistere la derivata in tutti i punti interi qua capita che il punto in cui la funzione non è derivabile è proprio il punto di minimo quando vado a fare la mia funzione il minimo vale 0 ma nel punto di minimo la funzione non è derivabile qua non c'è nessun punto capita che non ci sia nessun punto dove la derivata della funzione faccia 0 qua la derivata fa meno 1 qua la derivata fa 1 in questo punto la derivata non c'è chiaro? fermata in quel caso non si può applicare allora prendiamo un'altra funzione per esempio prendiamo la funzione facciamo l'esempio 4 qua sopra allora prendiamo fx uguale arcoseno di x meno di greco mezzi x allora questa funzione è definita sicuramente tra meno 1 e 1 quanto fa f di meno 1 l'arcoseno di meno 1 è meno pi greco mezzi meno pi greco mezzi per meno 1 fa più pi greco mezzi f di meno 1 fa 0 f di 1 pure fa 0 perché arcoseno di 1 fa pi greco mezzi meno pi greco mezzi pure fa 0 quanto fa la derivata della funzione e dove esiste? se vi ricordate l'abbiamo fatto da pochissimo l'ho fatto un altro ieri la derivata la derivata della funzione fa 1 sulla radice di 1 meno x quadro meno pi greco mezzi abbiamo fatto pochissimo la derivata di questa ok? poi la derivata di pi greco mezzi x fa pi greco mezzi e qui questa derivata esiste per x compreso tra meno 1 e 1 perché vedete che se ci metto 1 meno 1 mi viene 1 su 0 che non si può fare allora se io vado a fare il grafico di questa funzione cosa otterrò? se vi ricordate vi faccio prima il grafico dell'arcoseno il grafico dell'arcoseno y uguale arcoseno di x era fatto così era fatto così se adesso vado a fare y uguale arcoseno di x meno pi greco mezzi x otterrò otterrò allora in meno 1 e in 1 la funzione vale 0 ora che mi succede qui? quando sto vicino a meno 1 questo rapporto è molto alto quindi meno pi greco mezzi comunque è positivo quindi comunque questa funzione comincia così poi in 0 vale 0 un'altra volta e poi poi è una funzione dispari cioè se io scambio x con meno x il valore della funzione cambia segno e allora che succede? succede che la funzione più o meno fa così la funzione è derivabile negli estremi? no è continua? sì è continua su tutto meno 1 1 che l'alcoseno è una funzione continua ci sono il meno pi greco mezzi è l'inverso di una funzione continua quindi è continua ci sommo meno pi greco mezzi x rimane continua e vedete che qua ci sono il punto di minimo e il punto di massimo di questa funzione dove la funzione ha derivato di nulla se volete sapere quali sono questi punti dove la derivata è nulla dovete uguagliare questo a 0 se uguagliate questo a 0 in questo caso si può fare esplicitamente viene 1 sulla radice di 1 meno x2 uguale di greco mezzi quindi viene 1 meno x2 uguale 4 su di greco 4 lo giro e faccio il quadrato quindi viene x uguale più o meno la radice di 1 meno 4 4 su pi greco 4 è minore di 1 1 meno 4 su pi greco 4 è compreso della zona 1 fate la radice e quelli sono i due punti dove la vede qui siamo nelle ipotesi del teorema di Rolle sì perché il fatto che non sia derivabile sugli estremi non inficia va bene come posso nel teorema non abbiamo sfruttato la derivabilità sugli estremi perché a noi interessava soltanto quello tra i punti di massimo e di minimo che cadeva all'interno uno dei due doveva cadere all'interno quello che cade all'interno là ci vuole la derivata perché così grazie al teorema di Fermat possiamo dire che la derivata è fatta vedete quando la derivata non c'è in quel punto come in questo caso può succedere che la tesi del teorema non sia verificata perché appunto non sono soddisfatte le cose va bene questo è il teorema di Rolle questo teorema di Rolle è importante di per sé ma è importante anche e soprattutto per le conseguenze basta andiamo a vedere il teorema di Cosci per il teorema di Cosci Stavolta. Abbiamo due funzioni F siano F e G, due funzioni continue sull'intervallo AB e inoltre esistono F' di X e G' di X per ogni X compreso tra A e G. Quindi come prima ci serve l'esistenza delle derivate nei punti interni e la continuità fin sugli estremi dell'intervallo AB. Infine ci vuole un'altra ipotesi. Queste ipotesi in realtà ne possiamo scegliere due alternative, diciamo una di queste due. Infine valga una, almeno una, tra le due seguenti ipotesi. La prima dice che G' di X è sempre diverso da 0, però ogni X appartenente da B, aperto. Quindi dove c'è la derivata, la G, la derivata non si annulla mai. La seconda, invece di questa, possiamo prendere quest'altra. G di B diverso da G di A e F' di X al quadrato più G' di X al quadrato è maggiore di 0, però ogni X appartenente da B. Allora, questo qui, invece di dire che G' è diverso da 0, stiamo dicendo che la G sugli estremi non ha lo stesso valore. E poi, quest'altra qui è un modo sofisticato di dire che F' e G' non si annullano contemporaneamente. Perché se si annulla la prima, questo fa 0, siccome questo deve essere maggiore di 0, allora l'altra non si deve annullare. F' e G' sono numeri ideali. Quindi, se invece si annulla G', F' è 0, G' e F' è 0, S' di X al quadrato. Quindi questo qua è un modo sofisticato di dire, semplicemente, che F' e G' non si annullano nello stesso valore. Ok? Comunque, se questo vi dà problemi, rimanete concentrati solo sulla prima di queste due volte. Perché il teorema è in queste ipotesi e in queste ipotesi funziona sicuramente. Mi invito prima a capirlo in queste ipotesi, poi eventualmente, prendete anche in considerazione quest'altra, al posto di questa. Qual è la tesi? Perché la tesi ancora non l'abbiamo denunciata. La tesi è che esiste un punto intermedio tra A e B, tale che F di B meno F di A fratto G di B meno G di A è uguale a F' di X fratto G' di A. Per meglio dire che questo rapporto sia uguale a questo. Allora, questo è il rapporto incrementale sull'intervallo A B fatto tra l'incremento della F e l'incremento della G. e allora la tesi dice che da qualche parte in A B c'è un punto, tale che il rapporto tra le derivate è uguale a questo. Ok? O Andiamo a fare qui la dimostrazione Prima facciamo un'osservazione Osserviamo che se vale quella col pallino allora allora G di B deve essere diverso da G di A perché deve essere diverso da G di A perché altrimenti se G di B fosse uguale a G di A per Rolle da qualche parte all'interno dell'intervallo la derivata si dovrebbe annullare mentre la 1 questa qui col pallino ci dice che la derivata all'interno dell'intervallo non si annulla mai quindi posso sempre scrivere F di B meno F di A fratto G di B meno G di A questo lo posso sempre fare perché l'unico caso in cui non potrei farlo è quando il denominatore è nullo ma abbiamo visto che se vale queste ipotesi G di B è diverso da G di A e il denominatore non è nullo se vale quest'altra ipotesi già lo so che G di B è diverso da G di A quindi il denominatore non è nullo quindi in ogni caso questa quantità la posso scrivere sia che valga questa sia che valga questa allora qual è l'idea adesso l'idea è prendiamo una funzione ausiliaria costruiamo una funzione ausiliaria F di X più lambda G di X dove lambda è un numero veale quindi abbiamo preso G l'abbiamo moltiplicato per lambda e l'abbiamo sommata F F più lambda G è sicuramente una funzione continua inoltre la derivata di F più lambda G si può fare F' di X più lambda G' di X per ogni X compreso tra A e B questo perché la derivata rispetta la somma e rispetta la moltiplicazione delle costanti G è continuo lambda G è continuo F più lambda G che la somma delle funzioni continue è continua G è derivabile lambda G è derivabile che è la derivata di lambda G lambda volta la derivata di G io la derivata di F più lambda G la derivata di F più lambda volta la derivata di G quindi qual è l'idea? l'idea che siccome ho appena fatto il teorema di Rolle vorrei applicare il teorema di Rolle problema che non so quali sono le ipotesi di teorema di Rolle la funzione deve essere continua ed è continua deve essere derivabile nei punti interi è derivabile nel punto interno e poi se vi ricordate F negli estremi deve avere lo stesso valore allora io però non lo so se negli estremi ha lo stesso valore però lambda io ancora non l'ho fissato lambda per essere un numero che è qualunque quindi andiamo a imporre imponiamo che lambda che F di A più lambda G di A sia uguale a F di B più lambda G di B questo è vero se e solo se beh ricaviamo lambda quindi lambda viene lambda uguale a meno F di B meno F di A fratto G di B meno G di A quindi per questo valore di lambda portate tutto quello con lambda da una parte la F il valore della F dall'altra parte dividete e ottenete questa uguaglianza allora per questo valore di lambda le ipotesi del teorema di Rolle sono soddisfatte se lambda non lo scelgo uguale a questo valore le ipotesi del teorema di Rolle non sono soddisfatte allora con questo valore di lambda applico rolle e ottengo e ottengo un punto XI compreso tra A e B tale che lambda allora F primo di XI più lambda G primo di XI faccia zero ok adesso cioè F primo di XI fratto G primo di XI uguale meno lambda però attenzione ma adesso devo fare una precisazione allora supponiamo che G primo di XI sia diverso da zero se G primo di XI è diverso da zero io lo porto dall'altra parte divido per G primo di XI e ottengo F primo di XI fratto G primo di XI uguale a meno lambda sostituisco il valore di lambda e ho ottenuto la tesi del teorema di coscienza e ho finito il punto è posso essere sicuro che G primo è diverso da zero sì perché se vale questi protesi qui G primo è sempre diverso da zero quindi anche G primo di XI è diverso è diverso se vale questi protesi qui le due derivate non si annullano mai contemporaneamente allora uno dice e se G primo è uguale a zero e se G primo è uguale a zero F primo è uguale a zero ma io so che le due derivate non si annullano mai contemporaneamente e questo non è possibile quindi da questa uguaglianza segue per forza che G primo deve essere diverso da zero quindi posso fare quest'ultimo passaggio e quindi il teorema è dimostrato chiaro? allora lo ripeto perché io ho fatto la dimostrazione sia che valga questa ipotesi sia che valga questa ipotesi adesso ve la rifaccio separatamente nel caso in cui vale l'ipotesi 1 o quando vale l'ipotesi 1 supponiamo che valga l'ipotesi 1 allora io dico se vale l'ipotesi 1 G di B è diverso da G di A altrimenti per Rolle in cui qualche punto la derivate si dirà nulla e quindi posso scrivere questa quantità vado a scrivere F più lambda G F più lambda G soddisfa il teorema di Rolle per questo valore di lambda con questo valore di lambda applico Rolle e ottengo un punto xi dove F primo più lambda G primo è uguale a 0 ma G primo è diverso da 0 porto dall'altra parte divido e ottengo F primo su G primo uguale meno lambda ma meno lambda ha esattamente F di B meno F di A trattato G di B meno G di A questo se fare l'ipotesi 1 se invece fare l'ipotesi 2 il teorema come funziona questa la posso scrivere direttamente perché so già che G di B è diverso da G di A poi F più lambda G questa soddisfa l'ipotesi del teorema di Rolle con questo valore di lambda ragiono come prima e quindi ottengo xi compreso tra i B tale che questo F primo più lambda G primo sia uguale a 0 può essere G primo di xi uguale a 0? no perché altrimenti sarebbe 0 anche F primo di xi e noi sappiamo che F primo e G primo non si annullano mai contemporaneamente quindi G primo di xi è diverso da 0 porto dall'altra parte divido per G primo ottengo F primo su G primo uguale a meno lambda e concludo come in precedenza è chiaro? bene questo è il teorema di Cauchy il teorema di Cauchy come vedete si dimostra partendo dal teorema di Rolle è un'applicazione furba intelligente del teorema di Rolle perché stavolta la tesi del teorema di Cauchy non è banale la tesi del teorema di Cauchy è che se io ho due funzioni tali che il rapporto tra delta F su delta G questo è l'incremento di F fratto l'incremento di G diciamo è 3 ci deve stare un punto intermedio dell'intervallo tale che il rapporto tra le due derivate deve fare 3 cioè deve essere un punto in cui il rapporto tra la derivata di F e il rapporto tra la derivata di C fa esattamente 3 è chiaro? non è intuitivo come Rolle e non ha una rappresentazione grafica geometrica elementare come quello di Rolle ok? Rolle ti dice che nel massimo del minimo la derivata è nulla all'antendo di più uno dei due all'interno e qui va bene? allora prima di fare pausa abbiamo giusto il tempo di andare a scrivere il corollario del teorema di Tossi che è il terzo teorema della terna nel quale non serve una lavagna intera basta un pezzetto di lavagna che è il teorema di Lagrange che è il terzo la prima di la grana ci dice che se io ho una funzione f continua su ab e derivabile nei punti interni la tesi esiste punto xi compreso tra a e b tale che f primo di xi per b meno a è uguale a f di p meno f di a la dimostrazione è banale la dimostrazione è basta applicare il teorema di Couchy con la funzione g di x uguale a x se io prendo una funzione identica g di x uguale a x sicuramente g primo è diversa da zero perché g primo vale uno posso applicare il teorema di Couchy allora cosa mi dice il teorema di Couchy? che esiste un punto intermedio in cui f primo di xi è uguale a f di b meno f di a fratto g di b meno g di a ma g di b meno g di a g di x è uguale a x è b meno a e quindi f primo di xi è uguale a f di b meno f di a fratto b meno a portate da questa parte che è il teorema di Couchy ok? ora andiamo a fare un paio di esempi prendiamo questa funzione f di x x uguale x quadro x appartenente a 0,1 allora questo è il grafico questo è il segmento che congiunge 0 f di 0 e 1 f di 1 quindi 0 0 e 1 1 allora cosa dice il teorema di Lagrange? il teorema di Lagrange dice che in qualche punto qui la tangente al grafico della funzione deve essere parallela a quella che si chiama secante che passa per il punto a f di a e f di 1 quindi in questo caso perché dico questo? perché quindi in generale se io ho il grafico di una funzione f allora qui ho allora qui ho allora qui ho a f di a e qua ho b e f di b qual è l'equazione della retta che passa per questi due punti? l'equazione della retta che passa per questi due punti è banale è y uguale a più x meno a per f di b meno f di a fratto b meno a per quale motivo? beh ho imposto le due condizioni di passaggio vedete in a questo si annulla se questo si annulla tutto il prodotto si annulla ma io so che la mia funzione fa f di a quindi qua ci devo mettere f di a ma quando ci vado a mettere b mi deve venire f di b e allora ma qua mi viene b meno a allora la prima cosa che faccio qua ci metto b meno a così si semplifica e mi rimane 1 però non mi deve venire 1 per venire f di b io avevo f di a mi deve venire f di b meno f di a così f di a meno f di a si semplifica e rimane f quindi quando qua ci vado a mettere b b meno a b meno a si semplifica f di b meno f di a più f di a fa f di b quindi è banale costruire la retta che passa per questi due punti ora questa retta qual è il coefficiente angolare di questa retta? il coefficiente angolare di questa retta è questo numero qua perché vedete questo è il numero che moltiplica x chiaro? allora cosa mi dice il problema di Lagrange? che da qualche parte qua probabilmente ce ne saranno due di punti quindi per esempio qua e qua quindi almeno un punto ma non è detto che ce ne sia soltanto uno c'è lo stesso uno più di uno deve succedere che la derivata deve assumere questo valore qua ma la derivata uguale a quel valore là vuol dire che il coefficiente angolare della retta tangente al grafico deve essere lo stesso di quella retta che abbiamo costruito prima che si chiama se carica al grafico quindi essendo lo stesso valore vuol dire che queste rette qua devono essere parallele a queste insomma se avessi fatto il disegno bene devono essere parallele a quella quindi vuol dire che da qualche parte la tangente al grafico all'interno dell'intervallo a b deve essere parallela alla secante al grafico che passa per a f di a e per b f di b quindi questo teorema che è un corollario del teorema di Cauchy ha invece un'interpretazione geometrica piuttosto limpida quindi la mia funzione fa così e da qualche parte qua la derivata deve essere uguale a questo coefficiente angolare quindi la retta tangente deve essere parallela alla secante è chiaro? è chiaro? poi può capitare una volta può capitare più di una volta però almeno una volta nelle cose del teorema di Lagrange deve capitare ovviamente se la mia funzione non ha non è derivabile dappertutto vedete in questo caso questa funzione qui non ha da nessuna parte la derivata uguale al coefficiente angolare in questa retta qui perché? perché qua c'è un punto angoloso diciamo che questa derivata vale un vale un mezzo qua la derivata vale due qua la derivata vale un terzo ma da nessuna parte vale il coefficiente angolare vale un mezzo chiaro? ma questo perché la funzione non è derivabile dappertutto nei punti interi la derivabilità sugli estremi come al solito invece non ci interessa non è necessaria è necessaria invece che la funzione sia continua fino sugli estremi questo sì questo vale per tutti il terreno di Robles di Cauchy e di Lagrange va bene? a lui pausa pausa grazie 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 grazie